Buonasera, giovani amici dell'FBI. Va avanti. Sono una cosina graziosa appena laureata in lettere. I miei sono pieni di soldi, come si vede dalle mie scarpe. Reif, tocca a te. Abito nero, capelli biondi, a caccia di prede giovani e carine, preferibilmente ragazze pom-pom con due belle... No, non è possibile. Porca! Sono i nuovi profiler dell'FBI. Siete qui perché siete bravi. Dovete diventare i migliori. Addestrati per entrare nella mente dei più sofisticati serial killer. Lui è il Detective Jensen. Lavorerà con voi. Vuoi giocare al nascondino? Che sappiamo di lui? È uscito da una brutta relazione. Non ha degnato di uno sguardo me e Sara. Forse non sei il mio tipo. Fidati, sono il tuo tipo. La simulazione richiederà un lavoro di squadra. Dovrete entrare nella mente di un sociopatico. Lo chiamano il burattinaio. È ossessionato dal tempo. È ora di mettersi al lavoro. È solo una simulazione. Impareremo qualcosa. No! È uno scherzo, vero? Hanno ucciso JT. Vi rendete conto? Che simulazione è questa? La trappola è pronta. A mezzanotte ne morirà un altro. Ci ha marchiati. Dov'è l'assassino? Conosce i nostri movimenti. Qualcuno ha destrato a pensare come un killer. C'è solo un problema. Presto lo diventerà. Non c'è nessuno qui. A parte noi. Vi divertite? Io vi diverto. Due orologi, due trappole. Perché ora sono regolati. Per questo momento.